22esima edizione di Gender Bender, il festival di cinema, danza, teatro, arti performative queer tra i più longevi d'Italia, il festival del Cassero LGBTQIA Plus Center che quest'anno porta come al solito sugli schermi dei teatri di Bologna corti, spettacoli, performance dal Brasile, dalla Germania, anche dalla Palestina. In un contesto internazionale di guerra e di conflitto non possiamo non guardarci intorno non possiamo non portare le voci anche di chi sta subendo l'occupazione e la distruzione in Palestina non possiamo non mettere al centro come ogni anno i temi del genere, i temi della diversità perché appunto la cultura è anche questo, la cultura è anche interrogarsi su diciamo gli aspetti più diciamo anche dibattuti del nostro presente e quindi vi invitiamo insomma a teatro, vi invitiamo al cinema come sempre per vedere storie queer, storie di diversità, storie di lotta che toccano un ampio spettro di temi. Grazie a tutti.